o è da ieri che dico presto che tardi stasera sono le sei e mezza ma faccio già il video serale perché stasera alle nove e un quarto circa sono in live insieme a gabriele d'annunzio non il poeta sul gruppo facebook storie di fantasmi e del paranormale e quindi siccome se non non ce la posso farcela a fare tutto faccio i miei petardi faccio una storia del paranormale adesso alle 18 e 32 comunque le di ghost e le di sadako salutano a prescindere allora voglio parlare dei bambini verdi di volpi chi non conosce la storia è molto molto semplice volpi è un piccolo paesino dell'inghilterra questa storia ci arriva da due diversi storici dell'epoca e è ambientata intorno al dodicesimo secolo quindi 1100 più o meno stiamo proprio parlando di una storia arrivata e tramandata ma di forma veramente antica cosa tratta la storia la storia dei bambini verdi di vulpit racconta di questi due bambini relativamente somiglianti anche come lineamenti quindi ipoteticamente fratelli un bambino e una bambina piuttosto piccoli che vennero trovati in una specie di buca in campagna da alcuni paesani appunto di vulpit e vennero portati al paese questi due bambini non parlavano la lingua del paese non parlavano nemmeno l'inglese ma un'altra lingua avevano la pelle verde in base alle cronache dell'epoca per il resto tutti i lineamenti erano uguali ai nostri non mangiavano non conoscevano il cibo cotto il mangiare perlomeno di quel paese e si limitavano si limitarono per alcuni periodi a mangiare solo ed esclusivamente fagioli crudi pian piano che venivano accuditi un po da tutto il paese iniziarono a imparare a parlare l'inglese il bambino però si ammalò e dopo poco tempo venne a mancare dalle cronache dell'epoca invece risulta che la la bambina la femmina crebbe divenne adulta e imparò perfettamente a parlare l'inglese tanto da spiegare ai cittadini di vulpit che loro due venivano da una terra chiamata san martin o san martin non è chiaro visto che la pronuncia di come ne parlavano non è arrivata fino ai giorni nostri e che questa sorta di terra di san martin si trovava in quello che noi chiamiamo sottoterra sottosuolo qui le due cronache principali dell'epoca differenziano perché i due storici che hanno scritto questo avvenimento questo accadimento lo hanno riportato in maniera differente ralph di coquelan e di coqueshal uno e william parvus il secondo uno narra che la bambina raccontando gli avvenimenti disse che stava rincorrendo alcuni animali del padre che avevano portato al pascolo lei e il fratello e che di punto in bianco hanno sentito un boato e hanno chiuso gli occhi riaprendoli si erano trovati in quella sorta di buca nel terreno dove poi erano stati trovati mentre invece l'altro ha descritto il racconto della bambina uguale fino al punto in cui i ragazzi si mettono a cercare a rincorrere alcuni animali che stavano scappando del padre e uno di questi animali si era infilato in una grotta i bambini lo hanno seguito per recuperarlo finché non hanno visto una luce in fondo al tunnel sono usciti e si sono ritrovati appunto nel di sopra la contea paesino di vulpit all'epoca contava sì e no 620 630 persone nel corso dei secoli è andato a ingrandirsi oggi come oggi vulpit che gioca ancora tanto ormai sulla leggenda dei bambini verdi soprattutto per questione di turismo ovviamente e conta quasi 2000 abitanti la bambina che sopravvisse al fratello si narra anche che pian piano oltre a imparare la lingua di dove si trovava quindi l'inglese dell'epoca medievale aveva anche piano piano cominciato a mangiare il cibo che gli veniva proposto oltre ai canonici fagioli crudi e gradatamente sembrerebbe che la sua pelle sia poi schiarita fino a diventare del colore umano normale uno studioso di storia del 96 del 1996 quindi storia relativamente recente di cui ora mi sfugge il nome aveva ipotizzato che i bambini fossero in realtà degli alieni teletrasportati per un errore di teletrasporto o di varco dimensionale sul nostro pianeta un altro storico più antico intorno al 1600 li aveva descritti come caduti dal paradiso tanto da far pensare sempre agli alieni ma tra uno storico del 1100 uno storico del 1600 un ricercatore storico del 1996 sapete bene quanto io non creda all'avvento degli alieni sulla terra perlomeno non credo in questo lasso temporale che va da dalla storia per come noi la conosciamo quindi grossomodo dal 23 mila avanti cristo dal 3000 più o meno avanti cristo fino a oggi può essere stato che un tempo lontanissimo prima dell'era glaciale forse qualche alieno di qualche altro mondo possa essere anche giunto sulla terra ma anche lì nutro dei seri dubbi tutto ciò che è rapportato ai grandi enigmi della storia e alle grandi tecnologie inspiegabili della storia dal mio punto di vista è più facile che siano uscite fuori da popolazioni sempre terrestri e non aliene ma pre diluviane il diluvio è l'unica cosa su cui concordano tutti un diluvio c'è stato lo racconta la religione abramitica quindi ebraica cristiana protestante cattolica evangelista di geova dell'islam tutte lo raccontano anche alcuni veda indiani lo raccontano nelle antiche scritture imalaiane abali e in moltissime altre religioni e nazioni di tutto il mondo persino nelle culture africane semi tribali si parla di un'era del grande diluvio quindi che ci possa essere stato questo grande diluvio anche gli scienziati concordano che può esserci stato anche gli atei a prescindere da poi credere o non credere che sia un dio che l'ha mandato che sia stata semplicemente un effetto di spostamento dell'asse terrestre stessa cosa che peraltro era avvenuta con l'era glaciale perché l'era glaciale è cominciata presumibilmente a seguito dello spostamento dell'asse terrestre quando la terra stessa è stata investita da una scia di meteore che l'hanno proprio fisicamente spostata nell'universo e quindi che ci sia stato un diluvio che possa avere in qualche modo cancellato da questo pianeta una o più razze pre-diluviane quindi non umane per come ci conosciamo noi non geneticamente legate a noi ci può stare tutto ma a livello storico meramente storico Wulpit si trovava vicino il paese di Wulpit si trovava vicino ad alcune ad alcuni stanziamenti di accampamenti fiamminghi perché in quel periodo gli esuli fiamminghi erano si erano insediati nella bassa Inghilterra scappando dai da alcuni loro persecutori e tra queste proprio una comunità di fiamminghi che si trovava a poca distanza a relativa distanza da Wulpit si chiamava ma lo leggo perché questo se no non me lo ricorderò mai Fornam San Marten quindi si suppone che in realtà seppur possa essere vero che questi due bambini siano finiti nel paese di Wulpit e che questi due bambini fossero anche verdognoli ma il tutto ha una spiegazione non paranormale non parascientifica non fantascientifica e nemmeno ufologica semplicemente e presumibilmente appunto questi due bambini parlavano del fiammingo e noi stiamo parlando della cultura del 1100 in un paese di campagna di 620 abitanti quindi è normale che non avessero la minima idea di cosa fosse la lingua parlata dai bambini il fatto che fossero verdognoli mi fa pensare semplicemente a scusate all'anemia ipocronica l'anemia ipocronica è una sorta di malattia che ve la faccio breve ha un gene particolare un gene mpx modificato in modo da aumentare notevolmente il ferro del sangue fino a dare una gradazione alla pelle che varia tra il blu appunto e il verde il verdognolo tanto è vero che un altro caso estremamente considerato paranormale fino a pochi decenni fa e poi per fortuna la scienza genetica ha fatto passi avanti era il caso della famiglia Fugates la famiglia Fugates era una famiglia americana dei primi del 1800 ora non ricordo di preciso la data esatta i cui componenti erano la madre e il padre entrambi con la pelle blu 4 di 7 figli ugualmente con la pelle blu perché l'anemia ipocromica è anche estremamente ereditaria anche questi vennero poi curati con delle terapie apposite che gli schiarirono la pelle seppur l'anziano della famiglia Fugates arrivò fino a tarda età sempre portando la sua pelle blu i giovani invece vennero trattati e tornarono praticamente bianchi i Fugates peraltro avevano proprio un blu acceso nella pelle quasi appunto straordinario a vedersi ma in effetti l'anemia ipocromica è una malattia genetica ereditaria ma estremamente rara nel caso della famiglia Fugates successe che per mero destino sia l'uomo che era originario ora non ricordo ma mi pare dell'Olanda e la moglie che invece era non so se originaria inglese comunque era già trapiantata da alcune generazioni in America erano entrambi i nonni portatori sani di questo gene ovvio che stiamo parlando del 1800 e seppur la genetica non fosse come i giorni nostri si conosceva comunque la scienza dell'ereditarietà delle malattie genetiche a grandi linee e un impasto scientifico di quel ramo c'era già nel caso dei bambini verdi di Ulpiti invece non c'era questa cultura stiamo parlando del XII secolo e nel XII secolo era tutto esclusivamente dovuto o a qualcosa di celestiale mandato da qualche dio o frutto del diavolo o dei vari antagonisti a seconda delle regioni del mondo oppure disceso dal cielo e sta cosa un pochettino mi ricorda il web perché c'è ancora gente che crede a questa quella a quell'altro come fossimo nel 1100 ma pace pace bene fratelli purtroppo qui non si può combattere però appunto per quanto riguarda la leggenda di Ulpiti che ripeto è un paesino che oggi conta 2000 abitanti e che ancora oggi vanta il ritrovamento dei due famosi bambini con tanto di insegne gadget e quant'altro sui bambini verdi di Ulpiti ma questo è normale rientra nel business dell'acchiappa turismo di qualunque paese la Transilvania stessa gioca sulla sulle dicerie del conte Dracula in versione vampiro seppur non sia nemmeno nata lì la leggenda perché attira turismo e come un po' area 51 in area 51 in america vendono qualsiasi gadget a forma di alieno io stessa avevo comprato qualche anno fa da area 51 fatemi spedire poi in italia alcuni gadget perché mio figlio faceva le feste di compleanno a tema e quell'anno aveva voluto fare la festa a tema alieni e quindi mi ero fatta inviare lecca lecca lattine degli alieni biscotti fatti all'alieno alieni gonfiabili ciupa ciupa cose varie tutta forma di alieno e la maggior parte venivano proprio dai negozi disposti al di fuori di area 51 quindi è normale che una zona che vuole in qualche modo acchiappare turismo giochi anche con le leggende dei loro luoghi poi come sempre in ogni leggenda c'è un fondo di verità e questa analizzandola ne ha più di uno perché comunque i bambini dalla pelle verde o verdognola che dire si voglia appunto potrebbero benissimo esistere se voi vi cercate sul web le foto perché è storia più recente di quella famiglia di cui vi parlavo prima la famiglia fugates che si scrive fugates vedrete ci sono le foto proprio di loro perché nel 1800 le foto si facevano già e poi essendo una famiglia così particolare li avevano proprio fotografati di per ovvietà di cosa vedrete che sono proprio blu quindi con gli studi moderni poi appunto si può tranquillamente con un po' di ragionamento risalire al fatto che potessero essere appunto essendo fratelli geneticamente ereditari dell'anemia ipocromica il fatto che parlassero una lingua sconosciuta che solo loro due capivano se realmente erano facenti parte della comunità dei profughi fiamminghi stiamo parlando del 1100 è normale che arrivano due bambini che parlano fiammingo in un paesino di 600 contadini che non sanno nemmeno a momenti cos'è la loro scrittura e sanno solo dirti questi due bambini parlano tra di loro ma non si capisce niente ma non sapranno mai identificare che lingua parlassero e nessuno sapeva scrivere per poter trascrivere le parole che dicevano nella loro lingua metteteci poi che col cambio di alimentazione la bambina è schiarita e stiamo sempre parlando di un paese campano di contadini di campagna quindi povero di proteine come alimentazione e per diretta conseguenza povero di ferro siccome questa anemia questo tipo di malattia genetica estremamente rara ma esistente lega indissolubilmente tutto il ferro che riesce a racimolare una dieta povera di ferro farà sì che la pelle sbianchi tant'è vero che la leggenda stessa racconta che in principio i bambini non conoscendo l'alimentazione di quei posti non volevano mangiare nulla l'unica cosa che volevano mangiare era una cosa che conoscevano fagioli crudi i fagioli sono tra i legumi e tra diciamo le piante in natura che maggiormente contengono ferro tanto che vengono utilizzati spesso da vegani e da vegetariani per bilanciare proteine e ferro quindi cambiando alimentazione e magari mangiando alimenti poveri invece di ferro la bambina si è schiarita che il bambino si è venuto a mancare si è ammalato come la mortalità infantile nel 1100 era qualcosa di inimmaginabile le famiglie facevano 30 figli 20 figli per riuscire a farne sopravvivere due fino all'età adulta quindi c'è poco da stupirsi se il bambino si è venuto a mancare chi parla di questa storia spesso finisce la frase ad effetto con ancora oggi non è possibile avere una spiegazione plausibile su quella leggenda su quello accaduto in realtà è palese semplicemente il fatto che i bambini abbiano detto a prescindere che una la storia riportata da uno dice che sono usciti da una grotta la storia numero due l'altra storia riportata dall'altro dice che si sono ritrovati cadenti dentro a una buca del terreno ma in entrambi la bambina quando impara a parlare la lingua del paese di Vulpite quindi l'inglese dell'epoca racconta di venire dalle lande di San Marten o San Marten che dir si voglia e a pochi chilometri seppur chilometri di distanza c'era proprio questo insediamento fiammingo di rifugiati fiamminghi chiamato San Marten 2 più 2 fa 4 c'è poco da dare del mistero e c'è pochissimo da decretare come possibili venute aliene o caduti dal cielo per questo dico sempre io a volte le persone mi chiedono ma perché tra un video e l'altro seppur sempre in maniera molto leggera molto soft cerco sempre di dare nozioni di fisica di chimica di medicina di storia palese e quant'altro quantistica eccetera molti mi dicono ma se non puoi mescolare le materie materiali con il paranormale e invece è l'esatto opposto se si vuole capire il paranormale e conoscerlo davvero bisogna essere in grado di scremare tutto il normale che ci può essere dentro ma se non si conosce il normale cioè le scienze vere e proprie di contorno e non le parascienze solamente non si potrà mai arrivare a un ragionamento concreto se rimarrà come questi personaggi del 1100 che si sono visti arrivare due bambini verdi che parlavano una lingua sconosciuta e sui quali hanno favoleggiato per secoli qualsiasi credenza vera supposta o estremamente falsa come nel 90% dei complottismi da cui io poi ho fatto anche la playlist gomblotti nasce proprio dall'ignoranza non in senso offensivo dall'ignoranza di certe tematiche se le persone avessero più conoscenze di alcune tematiche scientifiche tecniche tecnologiche biologiche chimiche e quant'altro fisiche non cadrebbero come polli o come pere nei meandri dei pensieri complottisti quindi il paranormale si può comprendere solo e di più nel momento in cui abbiamo delle solide basi di normalità e le scienze tutte le materie universali hanno la necessità di essere sempre di più approfondite per poterlo comprendere nella sua realtà anche il paranormale chiudo qua sono le 7 vado a preparare la cena corro come una biscia che poi alle 9 ho la live sul gruppo che mi ospita che è il gruppo del signor Giovanni Scappellino e che si chiama storia di fantasmi e del paranormale che gentilmente mi ospita in live quindi vi saluto anche Lady Ghost e Lady Sinacqua a prescindere vado a fare Todos e poi vado di là prima vado di qua poi vado di là vi ricordo anche qua sotto c'erano tutti i link dei vari social dove mi trovate un po' più giù tre o quattro delle invece mille mila librerie che tengono in venite i miei libri un'escalation mostruosa per questo natale praticamente tutti sono autoregalati o regalati a parenti e ad amici rituali di vita quotidiana come dicevo in un mio post su facebook io avrei puntato su testimonianze di una vita visto che volume 1 visto che era uscito da pochi mesi o piuttosto allora su incanti radicanti perché è un libro che insegna proprio le basi dell'esoterismo vero e proprio invece rituali di vita quotidiana insegna quei rituali che servono per assorbire per attirare fortuna per attirare positività è valido è molto valido io sono fiera del mio libro per carità però essendo già uscito da quasi due anni pensavo che ormai l'entusiasmo si fosse smorzato per quello e invece andando a guardare le royalties mi sono reso conto che questo natale ha rifatto l'impennata fantasmagogica rituali di vita quotidiana ovviamente come sempre grazie veramente a tutti quelli che mi dimostrano anche in questo modo e in tanti altri modi la stima nei miei confronti che non è poca cosa vi saluto lo metto in carica già adesso quando si è carica si è carica perché poi stasera ho necessità della linea perché se carico una cosa non posso seguire bene la live e quindi necessito per cui lo carico già ora stasera esce un po' prima doppia pinna ciao